Per il terzo anno consecutivo Fideuram e San Paolo Invest sono partner della Rolex Capri Sailing Week 2019 che si svolge nelle acque di Capri fino al 18 maggio. Grandi nomi, barche di altissimo livello e il Circo d'Italia pronto ad affrontare questa entusiasmante sfida come conferma il presidente Roberto Mottola di Amato. Sono numerosi gli iscritti, quest'anno abbiamo superato la soglia dei 100 che era un traguardo che ambivamo a raggiungere e quest'anno abbiamo tante barche venute da lontano. Fondamentalmente siamo convinti che il percorso della regata, gli scenari che si attraversano rispetto ad altre regate sono particolarmente attraenti. Per augurare buon vento ai partecipanti della regata i private banker delle reti Fideuram e San Paolo Invest hanno organizzato una serata di gala al Borgo Marinari. L'amministratore delegato di Fideuram, Paolo Molesini. C'è un rapporto molto stretto perché c'è un rapporto molto stretto con i nostri clienti che molti nostri clienti adorano il mare, adorano Napoli. Io personalmente adoro Napoli, sono felice di essere qua e vi confermo che anche negli anni prossimi vorremmo essere partecipati a questa manifestazione a cui veramente teniamo molto. Musica e spettacolo nei cantieri Power Boot sull'isolotto di Megaride con l'esibizione del gruppo musicale Dez Napoli Show diretto da Carlo Morelli. Sull'evento gli interventi di Fabio Cubelli con direttore generale area di coordinamento affari Fideuram e Giorgio Pietanesi, area manager sud Italia delle reti Fideuram e San Paolo Invest. C'è un parallelismo tra le due cose, soprattutto nel mondo di oggi in cui è sempre tutto più complesso, è sempre tutto più difficile da capire, quindi avere un istituto di credito, una banca che aiuta nella consulenza a capire i mercati, a capire come indirizzarsi, a cercare di scegliere le soluzioni giuste, sicuramente è un'ottima cosa ed è quello che oggi serve molto. La serata rappresenta eventualmente uno sport molto importante dove c'è bisogno di un team, di una squadra, di obiettivi tranquilli per superare anche mari molte volte difficili. La nostra attività ha delle assonanze perché abbiamo bisogno di avere un team alle spalle, chi ci dà informazioni, la capacità di gestire e di essere fermi soprattutto quando il mare sembra brutto e quindi avere le idee chiare dove andare, quindi una rotta sicura. Poi se vogliamo al territorio, credo che queste siano le cose più importanti che si fanno nel sud d'Italia e quindi un evento Fideura è un elemento molto importante.